... Concessionario e spiega 2 mini in forma a volta, vi ascoltiamo nelle stade di Parma di P chwilento per scoprire tutte le novitate della gamma P.M.M. di Nostro I servizi e un'assistenza impeccabile. Concessionario e spiega 2 mini in forma a volta, la nostra parma e vi ascoltiamo nelle stade di Parma in filento, la mia pelle è fatto, questa è la prima parma, la mia segna di P.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M. Grazie a tutti. Grazie a tutti.